considera che dove state state qui ci sono in giro dei troll che vanno avanti e dietro e un sacco di lupi invernali già il fatto che state trasportando un carretto di pesce vi stanno già un pochino ogni tanto vi buttano l'occhio però non più di tanto cerco di non fare troppi vuoi perché potrebbe scadere l'effetto tra poco di sta pelliccia appunto allora quindi in prima è meglio eh allora dove volete andare di qua o di qua praticamente c'è il runner che spingendo il carretto dice se andiamo a sinistra consegniamo questo cibo per loro se andiamo a destra andiamo a prendere i vostri documenti però ok ti aiuto dire allora a sinistra per togliere l'aspetto ormai ci sono i documenti prima dentro il carrello chi è che c'è aspetta dietro a spingere il carrello c'è il runner e dentro? dentro il carrello ci sta del pesce e sotto ci sono tutte le vostre armi scudo ok scherzavo devo prendere più i documenti i documenti? si ok considerate che col carretto vi muovete molto più lentamente alla sinistra non sentite verso che nessun rumore invece a destra sentite un bel chiasso stanno facendo veramente un bel casino perfetto quindi per me è uguale ok ma che vado a stop un bel po' di azioni ok allora dirigendovi qui vi trovate di fronte a voi un paio di di lupi invernali palesemente ubriachi che stanno praticamente facendo casino giocando a carta un pochino come i vecchi quando giocano a briscola che stanno a calare l'asso e buttano giù i bestemmioni più o meno la situazione è quella considerate che c'hanno qualche livido pure in faccia e quando vi vedono passare vi stanno vi sono praticamente girati vi stanno praticamente fulminando con gli occhi ok e vedete mentre si avvicinano verso di voi ok sa voi che cosa fare si avvicinano e iniziano a spintonare Ada e Thorin cioè iniziano a spingere M si e anche Ada tirerei di percepire le intenzioni per quello che cavolo vogliono fare sens motivo vai faccio anche un sens motivo quando tiri 4 ma almeno sai che non sbagli troppo Ada si sta trattenendo dal picchiarli per un motivo soltanto perché gli sta detto di non fare di non fare guai esatto ma che quando i tuoi guantoni diventeranno caotici considera che sto cazzotto li manderà via lontano 10 metri quindi stavano proprio mi faccio male sto giro perché sono anche in Italia non li ho fatti ancora in Italia grande però effettivamente devo mettergli l'impact oppure un attimo che mi fermo tanto è una cosa che non puoi fare tu ma puoi fare soltanto Ada in questo momento tipo io mi metto in ginocchio con un mini incudine inizio a forgere l'Ada si fai la manicure a l'Ada allora si si mi ricorda di me per le unghie allora dicevo tu tu vedi loro che stanno avvicinando e tu cazzo sono ubriachi questi vogliono bot a prender ieri può arrivare questi vogliono bot eh vabbè dico ormai non mi lamento vi guardate anche in giro non ci sono troll o guardi di ogni tipo in giro quindi veramente se si mettono vedete anche i lupi invernali che si iniziano a fare a cerchio intorno a fare la folla perché vogliono vedere che cosa succede se vogliamo vedere per andare il sabato si praticamente sarebbe uno scontro uno contro uno cioè tra me tra Ada e e uno dei due tra Yargin e poi ci sta Thorin contro Scrobb qui cioè sarebbe semplicemente questo a meno che noi non li prendiamo via prima considerate che stanno anche cioè lo vedete mentre sono ubriaco perché hanno il passo molto molto hanno una falcata abbastanza irregolare un pochino sono un po' nauseati quindi vedete però comunque vi spingono mi stanno alitando in faccia si sente proprio la puzza di alcol lo stai chiedendo ad Ada nel toglierli di mezzo a cazzotti oppure stai chiedendo di togliere e allontanarli oppure chiedendo perché io posso creare maledizione ok allora Ada di nuovo ti era di intimidire questo di meno 6 è un punteggio di caratteristiche vabbè allora vabbè 22 più 5 devi considerare quindi 27 siamo lì ovviamente tra uno e l'altro comunque li allontaniamo da parte in maniera abbastanza brusca a tal punto che quello spinto da Ada cade sul pavimento quello che tu lo allontani poi ricomincia di nuovo a vomitare perché è ancora ubriaco ma vi sembra tutto abbastanza normale allora fortuna però sia Lili che Ada vi girate un attimo e avete la sensazione che qualcuno vi stia tenendo d'occhio in qualche modo con la coda dell'occhio vedete un uomo incappucciato un bel po' distante più o meno una ventina di metri però sentite come se vi stesse tenendo d'occhio ventina di metri hai detto si vedete qui dove stavano prima i goblin se faccio qualche passo così proprio con noncialanza in modo da appiccinarmi a lui cioè non di troppo di due metri giusto due metri ok ovviamente rallenti il passo in sostanza mentre voi camminate ok allora loro continuano ad andare avanti tu rallenti un pochino ma non molto cioè riesci comunque a stare dietro al carro praticamente avete fatto percezione del magico o del del male ok ti focalizzi su di lui e effettivamente percepisci un'aura malvagia intorno a quella intorno a quell'uomo incappucciato più lo fissi meno riesci a delinearne un volto lo vedi sempre più anonimo più lo fissi più diventa anonimo ok stessa cosa mi viene con indirizzazione del caos no non percepisci nessuna propensione né verso non percepisci né un'energia molto legata alla legge né molto caotica quindi da quel lato non percepisci nulla e invece quel magico del magico percepisci una forza energia magica principalmente verso il volto di questa persona ok credo di aver sapito che probabilmente userà qualcosa per marcherare il volto di farti vedere posso sopporre considera che vista dietro a una sempre comunque rimane entro il range o che è entro il range della ventina di metri quindi non però non sembra si è accorto che tu ti sei accorto di lui che tu ti sei accorta di lui va bene io so che tu non sai io so che senza dare l'impressione che di averlo notato mi ricongiungo riprendo il passo mi ricongiungo il terretto ok considerate che ci avete comunque ai piedi ancora le le ciabatte che vi ha regalato Nadia quelle che una volta al giorno possono far sparire le tracce quindi nel momento in cui tu lo dici vedi Ada dice ok nascondiamo le tracce e mal che vada ci nascondiamo dopo per il carretto rimane soltanto uno di noi magari qualcuno di noi si allontana dal gruppo e cerca di scoprire chi è o altrimenti facciamo quello che dobbiamo fare e poi ce la battiamo a gambe con le con le racchette della neve magiche di Nadia ovviamente tutto sottovoce quindi magari andare vedo Lili come la più adatta per una cosa del genere cosa? penso sia la più adatta per tentare di vedere senza farti vedere e capire chi è che ci sta seguendo no? per farmi vedere oddio si posso rendermi invisibile beh sì più che altro quello che più o meno hai fatto anche la scorsa sessione sì beh è l'unica cosa che posso fare è fordività ciao considera che comunque c'è intorno è abbastanza persone quindi devi trovare un attimo un luogo bisogna ci servire per una situazione di casino per poter farti minimizzare e sparire quindi bene lui rimane intorno intorno alla ventina di metri ma vedete che non fa nulla cioè notate comunque adesso anche Ada lo ha notato effettivamente non sta facendo nulla però il momento in cui Ada l'ha notato se ne vedete che si è un pochino in alto se la vedete un pochino più incazzata di prima lo conosci? mh credo che sia la sua faccia quella che conosco vedete Ada inizia a stringere il pugno che gli vorrebbe tirare però sta ferma cerca di non dare nell'occhio se l'abbiamo notato ok dunque mentre vi state fossilizzando su di lui dal nulla vedete un tipo che vi è fiondato addosso praticamente stanchissimo sta ansimando perché sembra che abbia corso chilometri le leggete proprio in faccia la paura e vi chiede di salvarlo perché dice che il suo maestro è infuriato il suo padrone è infuriato siete un umano ok quindi in quel momento vedete arrivare un enorme lupo correre verso di voi nel momento in cui voi vi non so voi Ada vedete si frappone fra l'umano e il lupo con le mani con le mani pronto per fermarlo nel momento in cui fa così il lupo frena per non travolgerli e ritorna in forma umana presentandosi dicendo di presentandosi e appellandosi come corgin poraccio brutto nome adesso non riuscirò più a immaginarlo questo come un lupo ma come un corgi gigante bianco praticamente vi dice che quello è il suo schiavo lui può farne quello che vuole e vi dice anche che è meglio non mettersi in mezzo tra lui e il suo schiavo schiavo prendete Ada appena sente schiavo pensa al fatto della copertura e quindi non fiata non dice nulla anche perché tanto non avete nemmeno i documenti quindi non è che vuole fare qualcosa quindi vedete un attimo fermo così cosa fate qualsiasi cosa tu volessi dirgli il lupo a parte non ci riesci prende ti sposa ti fa slittare sulla neve tipo porta scorrevole e prendete adesso di fronte lui ci sono Ada Thorin Lily e dietro lo schiavo Lily che cosa vuoi fare ? provo un attimo a intercettare e dirgli qualche problema ok con diplomazia con intimidire lo vuoi dire ovvio con intimidire ok 18 più 5 22 allora la cd passi quindi appena fai appena gli occhi di lui un attimo rimane fermo con un tono un po' più calmo ti dice che lui è il suo schiavo quindi lui li acquista per fare un pochino di sport li fa correre in giro per il villaggio e lui li insegue non sempre li uccide quando riescono a fuggire li lascia andare li va a prendere dopo con calma perché da qui non possono muoversi diciamo che te lo affittiamo per questa giornata si chiede di dargli 75 monete d'oro se lo può pure tenere se lo potete pure tenere se gli dare 75 monete d'oro via amico 75 monete d'oro per uno schiavo vedete Ada che appena tante cose fa io ne valgo almeno 250 torca di quello e vedi praticamente che lui sta lo schiavo vero evidentemente sta a terra bingerlino tremante e sta ad in piedi che torreggio con i suoi 2 metri 10 2 metri 15 alta così con le braccia incrociate a guardare malissimo il lupo invernale il lupo invernale questa volta è più basso quindi lei sta proprio dall'alto in basso lo guarda comunque fate quello che volete se lo volete sappiate comunque lui non è ben disposto a vendervelo a vendervelo né ad affittarvelo però però vedendo un attimo cioè vede l'altro nobile vede turion che nonostante il suo metro e trenta effettivamente è una cassettiera cioè bello piazzato la vede turion che è di sostanza le torine che è di sostanza poi vede ada che è più alta di lei ma forse forse farli incazzare quindi scende a 50 e basta mi sembra più ragionevole come prezzo in tasca le sue monete gli dice dice allo schiavo di andare a prendere le sue cose e di trasferirsi con il suo nuovo padrone e deve sparire subito altrimenti lo mangia ok quindi vedete che Rainer si ferma un attimo dallo spingere il carretto e va va da questo schiavo e gli da un foglio di carta su cui a colpo d'occhio è riuscito a riconoscere lo stesso simbolo degli araldi dell'estate quindi probabilmente Rainer vorrà far alleare lui e qualche altro schiavo perché ne ha dato più di qualcuno alla a questa rivolta quindi voi andate avanti non a camminare se più vi avvicinate più sentite del vociare effettivamente vedete che due due troll effetti capite che effettivamente questi troll sono delle guardie e praticamente vedete che questi due troll stanno un po' litigando con dei lupi invernali si stanno sentite da una parte che stanno litigando per chi ha effettivamente il dominio in questo quartiere in questa parte del villaggio tra i troll che dicono di essere dalla parte della regina Elvana quindi loro hanno più potere visto che Wightron è praticamente una provincia del regno di Elvana invece questi due lupi d'inverno dicono di dover essere loro al comando semplicemente perché loro ci vivono qui questa è la loro casa diciamo che vi guardano un attimo vi lasciano stare apparentemente vi lasciano stare dopo un po' vedete che il combattimento inizia ad arrivare ad arrivare alle mani e anche oltre quindi vedete proprio che la situazione gli sta inizia ad essere un po' calda Rainer vi informa che comunque la casa di chi vi ha fatto i documenti è molto vicina e Pente è girata all'angolo quindi vi chiedo una mano a qualcuno per poter spingere il carrello per potersi muovere un pochino più velocemente ti dà una mano io ok fammi una prova di riflessi fammi una prova di riflessi non chiedo perché ma ok e invece ti metti dietro di lui tu lo fai spostare fai scusa ci penso io e ti vometti il turbo con la tua velocità al massimo cominci a spingere e a menare duro vabbè che tu alla fine fai uno due tre tutto prende giri l'angolo di botto tipo deja vu have you just been this place before non c'è non c'è non c'è Praticamente chiede se qualcuno di voi sa mettere mano Se mettere mano e scassinare Ok, faccio una porta su forza per sdradicare la porta Quindi comunque vi chiede se qualcuno lo sa fare Se no pugni sulle maniglie No, no, semplicemente voi vi state Tenete d'occhio, vedete se arriva qualcuno E ci pensa lui Quindi nessuno di voi sa farlo Io no Vedete Ale Qua da noi non esistono porte Soltanto valide alternative Ora diventa porta scorrevole Per orizzonte Open space Più open che space Sì sì, più open che space E' chiaro, vabbè Se poi parte un pugno mio o il martellato a tuo è shooting stars Quindi è poi proprio space Ma vabbè Allora vedete lui inizia ad armeggiare Vi state girati per vedere la situazione E prendete vedete In l'autoranza vedete arrivare piano piano Con passo di marcia Quindi non troppo svelto ma nemmeno troppo lento Ed è da arrivare questi due troll Rainer riesce a forzare la serratura e entra di scatto Lasciando venite a voi la guardia del carretto Sentite un attimo di farfugliare qualcosina E dopo poco Vedete che ormai i troll si sono avvicinati Sono a 5-6 metri da voi Quindi ormai sono vicini All'improvviso compare E riapre la porta Rainer e vi porge E dà i documenti a tutti In maniera molto furtiva Mette venite in tasca i documenti E vi dice sottovoce Adesso ce li avete i documenti Però adesso dovete darmi una mano a portare quel cibo Quindi Turion Posso contare su di te? Non tiro di nuovo di riflessi Eh non devi tirare di riflessi Se vuoi andare più veloce purtroppo Proviamoci Non adesso aspetta Alcuno però almeno 30 Volevo dire tipo in quel millisecondo dopo Allora considera che Si sono avvicinati I due troll sono venite davanti a voi E vi chiedono cosa ci fate Qui vicino alla cast Di un Di un uovo sotto controllo Che è già stato arrestato varie volte E vi chiedono i documenti Ecco Documenti glieli diamo stavolta Ah ci abbiamo documenti E non sono falsi No 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 Non lo diciamo è chiaro No nemmeno Ado lo dice Ok che ha 9 di intelligenza Però comunque 18 in saggezza Scema non è Comunque Date i documenti Troel vedono che è tutto in ordine E vi fanno andare Vi consiglio di non farvi più vedere Da queste parti Se non volete passare un brutto quarto d'ora Comunque Iniziate a spingere Comunque Qui Vedete Quel tipo Ok Mettete i metri di stile a spingere Vedete effettivamente quel tipo E Ada Anche Turion in realtà Appena Danno un colpo d'occhio Subito riabbastano la testa Dovete farmi Un tiro di Di Stealth Di stealth O Blef Ma Va bene Minchia Io 5 Io 5 E più 4 Tu ti sto dicendo Ho fatto più di 3 Comunque No questo si ma tanto Abbassate la testa Spingete il carretto Si mette anche Ado A spingere il carretto Per avere la testa Verso il basso Però A colpo d'occhio Avete visto Effettivamente La faccia Di questo tipo E Effettivamente Faccia Non ne ha La sua faccia E' uno specchio Nel momento in cui Vede lo specchio Ada Dice a Turion Cazzo Ci hanno beccato Voi Tu John guarda E A parte Vedere il suo Riflesso Non sembra Essersi Messo In Sull'attenti Mettiamola così Rimane comunque Sul chi vive Comunque sta a guardare Ma Non più di tanto Cioè Vi riuscite comunque a sentire Le sue Le sue espressioni Il suo modo di fare Nonostante non abbia Effettivamente una faccia Però Vedete che vi sta tenendo D'occhio Forse perché C'ha Un Forse per via Del vostro vestito Del fatto che Non avete più La pelle Dello stesso colore I capelli Dello stesso colore Gli occhi Dello stesso colore Nemmeno la fisionomia E' più La stessa Forse Non vi hanno riconosciuto Ma Sembra Che vi stiano Tenendo d'occhio Comunque Siccome Ada sta pure A spingere il carretto Tutti e due Di riflessi Vai Correte Mentre Inondate di neve Tutta la gente Che passa Inondate di riflessi Tipo stanno prendendo vita Vabbè Non fate così Tanto casino Semplicemente Andate abbastanza Spediti Non vi fermate Ci mancavo pure Che fate Ok che sarebbe Stato ignorante Come scena Però diciamo Che una persona così Magari Non la guarda Non la vedrebbe Nello stesso modo Comunque Arrivate In questa casa Che È molto Molto tranquilla Non è sparsosa Come le altre Che poi sparsosa Tra virgolette Semplicemente Non ha Non ha i fronzoli È una casa Molto anonima E vedete Che anche qui Rainer pusta Però Quando apre Vedete Una Una signora Un po' più anziana Una Giovane donna E poi Sette bambini Uscire Cominciano a portare Dentro il pesce Lasciando Le Nette Le vostre armi Belle Belle in vista Tipo Tenga figlione Usala Con cura Rainer vi ringrazia E Mi chiede Se può fare Altro Per voi Adel dice E dov'è Capitava Adel Vedete Dov'è Capitava Questa qua Comunque Prende la cinta E se la mette Dov'è Capitava Vedete Io vado a mantenere Una promessa E si E si Incammina Vedete Che si allontana Il Rainer vi informa Anche che Poco fuori dal villaggio C'è poco fuori dal quartiere Ci sono Due uomini specchio Che controllano Chi entra E chi esce Quindi se i documenti Non sono in regola O verrete beccati Si dovrà andare Alle armi E dovete fare attenzione E fare molto in fretta Perché Loro riescono a comunicare Con le streghe A Wightron Potrebbero mandare qui Un bel corpo Di guardie Oppure rafforzare Le difese A noi non ci serve Questo Voi che fate Iniziate a dirigervi Tanto che si vede Carretta Adesso non c'è più Quindi L'armi l'abbiamo Giusto L'armi l'avete Ok A posto Adel Semplicemente Si è rimessa la cintura Il tipo Non si sa mai Se Se qualcuno La becca O qualcosa Vedete Lo schiavo Uscire da qui Aplaudo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.